ti vengono a cacciare? si me la manca figliate chi non si è scelta? ma ti ti rendi conto? scusa nani voglio sapere una cosa ma cosa è successo? non è qualcosa che mi vuoi dire ma cosa è che fa? cosa l'ha fatto? è una forza di sé cosa l'ha fatto? aspetta un attimo quelli di controllo spostate chi ne fanno a murta non puoi abbrassarsi in tempo di pandemia sciogliate ben cucinati nei contagi io non ho mai visto una cosa di genere è molta vita ma sei per sapere cosi l'ha imbellinato? ma ti vuoi dire una volta per tutti così t'hanno fatto o no? e che cazzo? ma Emanuele hagi pazienza ma chi l'hanno non vuoi dire e l'hanno fatto un pesto che forsemmo? e ti ho stussato per sta bellinata chi? e ti ho mangiaciti ma per i bellini manco per due e poi grazie a tutti grazie a tutti